Ciao ragazzi faccio subito perchè altrimenti vi annoio e non dovete annoiarvi in questo video Non chiudete questo video perchè veramente ci ho messo le ore ad editare Ed è venuta l'epicità e la tristezza sulla faccia di Max Quindi dovete vederlo tutto Volevo solo dirvi che mi sono dimenticato di dire nel video che questo era lo speciale dei 3000 iscritti E niente spero vi piaccia e buona visione Ciao a tutti ragazzi sono Sparvi e oggi siamo sulla Blindfall Challenge Sì quando tipo non sai che dire fai roba a casa In cosa conti se la Blindfall Challenge Praticamente io metterò una diciamo una cosa Perchè è una cosa Per non farmi vedere Cioè per non vederci E lui mi dovrà appunto Io con il mio dito dovrò tastare Perchè si dice tastare Il del cibo che appunto lui ha selezionato E dovrò indovinarlo Allora siamo scesi tipo mezz'ora fa a comprare in un negozio la roba In settori diversi e chissà che cazzo mi avrà preso Mario Comunque No non hai niente di coattivo Io ti uccido Comunque Io so padroneggiare la forza Mario no no Allora venderemo Mario con questa cosa Cosa Non so che Cioè tipo una bandana Però noi ovviamente Lo usiamo come Allora Oddio sembri un indiano Tipo uno spartano Il colore è quello di pelle Ecco Ma come cazzo puzza Oh ma non ci avevo fatto caso Ma puzza Un bordello no Per sfizio Mario d'ora Qua Mario la puzza sta qua Che cazzo è Iniziamo da quello là un po' più Allora devi solo toccare Dammi il dito Ho paura Faccio vedere alla vibe E dai E mi devi portare tu col dito Che cazzo ne so dove sta Ok Piano Stavo facendo in guadra Piano Piano Carezza per bene Ok Cazzo è È difficilissimo Di nuovo L'abbendato Aspetta aspetta Posso prenderla così Eh no Perché Non puoi È perché capiresti subito Ma perché cos'è Mario non puoi Mario no Non parare Ma No non puoi Mario Ecco Ma che cazzo è Dai È facile Ma che è una gomma da cancellare Cosa Cosa Non lo so Tocca la parte di sopra È un pesce Un pesce Che cosa c'è Come Mario Dove il pesce Dove il pesce È liscio Ma che cazzo è Aspetta Dai c'è quasi Dai L'aglio Sì Dai Era sta parte dell'aglio Oh Ragazzi Sapete che mi sembra Così ci sta Un pokemon Nella sesta generazione Come cazzo si chiama Oh sì Oddio Forse è Pidabbo Che c'ha quella cosa Tipo appesa Manuel Ti prego Tu che stai vendendo questo Io trovavo una foto Di quel pokemon Ti mangio Ti mangio Ti mangio Faccio un attimo Vede Sei pronto No 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 Ho capito già Questa è d'impatto No no Ho capito Che cosa È qualcosa di cattivo Qualche sky È una scatola Come una scatola C'è un tipo Di alluminio Non so Poco Poco Ti giuro Ho paura Ho paura Io per te Mi sto solo Cagando Oddio Che schifezza Cos'è Oddio Oddio Cibo per cani No Per gatti No Per uccelli No Un altro tocco Un altro tocco Che cazzo è Acqua Oddio Che è melmoso Mantieni tu in mano È un bicchierino Omogenizzato No È un bicchierino Questo si è capito No Penso che l'hai capito Sì Mario non vedere No lo sto vedendo Sto pensando Basta Basta Sennò non lo voglio Indovinare Ok Allustiamo Che cosa Che cos'era Un cos'ho indovinato Uovo Vaffanculo Il turno del uovo È un passorezzo E stanno qua Vai Il terzo ingrediente È qualcosa Un po' più Questo è L'odore Che schifo Vi giuro ragazzi Che non l'ho mai vista Bla Che cazzo Che schifo Ho paura Ma Manuel Sei stato cattivo Io ho fatto il bravo Mario non metterlo sul microfono Che cazzo è Sta schifezza Metti tutto il dito dentro No Non lo voglio fare No Che schifo No 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 Mario Ha sporcato tutto Allora Aspetta Ascoltiamo Che cosa è questa roba So che qua c'è la sedia Ok Ok Da forse Dove è il fazzoletto Sono nell'inquadratura Che schifo È caldissimo Sto coso Comunque non voglio indovinarlo Spara qualcosa Cos'è merda putrefatta Di 18 giorni Allora fammi pensare Cibo per cani No Per gatti No Per uccelli Vai vai No Non è Carne Cioè Non lo so Sto pensando Tocca un po' Tocca un po' Una roba Qua mi toccare il contenitore Una roba con varie cose Il contenitore Ti prego Ok È che è un'insalata Tu staci Sì ma Tritata No È l'insalata Frullata È l'insalata Russa Sì Che schifo Che schifo Mi hai fatto toccare Questo è il pezzo forte No aspetta Mario No No devi toccare Questa non devi toccare il barattolo Sennò capisci subito Devi solo È merda Anzi è la dimostrazione Di quanto io ti voglia bene Mario Non è merda Fai vedere Che schifo Sei stronzo Che cazzo è Non capisco Mi sa che ha capito toccando Il covecchio No non ho toccato il covecchio Sì Amico mio Dimmi a meno di cosa è composto Non è tonno No Merluso No Non vola Cioè vola Che cazzo No aspetta vola Che cazzo è Basta Già fatto Faccio come qua Mi uccide se Se si Non gliela venda È fatto con Pollo e coniglio Detto questo Che cazzo è il capretto Oddio Non lo so Mi arrendo Fai lì Che cazzo è Ma quanto è stronzo Io ho fatto il bravo No ma Non è roba mortale Questo penso sia il più bastardo E Questo Cioè davvero Dantare la scritta All'olio di girasole Non puoi Mario 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 no Che cazzo è C'è la spaziale Che cazzo è Manuel tu che stai editando questo video Io domani ti farò una cosa bastardissima Preparati alla morte Cazzo Ah che schifo Che cazzo è Che schifo Non lo so Tonno No Indizio veloce No che buon odore Dimmi un indizio Eh lo so Mario No tocca No lo state squamando Che schifo Non lo so mi arrendo No non ti vuoi rendere così Non lo so Manuel Eh nuota È un pesce Un tonno Un salmone Un salmone Un pesciolino rosso E ho deciso il pesciolino Dentro l'acqua È una tartaruga Che cazzo ne so No l'artaruga no Un pesce spada Un pesce spada In scatola Mario È tonno È tonno No davvero è tonno È tonno Ragazzi È tonno È tonno Te l'ho detto È tonno Quando adesso è davvero è tonno È tonno Sente proprio l'odore della lattina Esatto Il pugno Indovinato È tonno Non è tonno Alice Vaffanculo È l'odore del tonno Sì ragazzi È l'odore del tonno Cliccate sulla mia faccia Per vedere lui Che fa queste cose Sul mio canale Ragazzi Quando i like facciamo arrivare 80 like Per la prossima cosa insieme E noi ragazzi Ci becchiamo al prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ciao No vi dobbiamo un attimo Le Mario Le Mario